Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova tier list, che sorpresa di nessuno! Stavolta vi parliamo di una saga a cui siamo molto affezionati, X-Men, la maggior parte diretti dal nostro caro Bryan Singer, persona che non lavorerà mai più probabilmente per determinati motivi che sono venuti fuori negli anni, comunque diciamo che siamo molto affezionati a questa saga con i suoi mille pregi e i suoi tanti difetti. La classifica è esposta come sempre, god tier, tanta roba buona o mediocre, ma è brutto, i film sono veramente tanti ragazzi, sarà una bella cavalcata, quindi iniziamo subito. Cominciamo con X-Men del 2000, diretto da Bryan Singer. Questo capitolo è fondativo per quanto riguarda il cinema supereroistico da qui in poi. Se vogliamo è papà pure di Spider-Man di Raimi, dato che è venuto prima. E già prima ci metteva davanti dei temi politici interessantissimi. Conosciamo per la prima volta Wolverine, interpretato da uno Hugh Jackman convincentissimo, nonostante la sua altezza, che i fanatici dei fumetti rompono il cazzo, sì, perché Wolverine è più basso e bla bla bla, chi se ne frega. Funzionava molto bene, con il suo iconico capello a due punte, con le cornina, che conosce Rogue. Poi, tramite un combattimento con Sabretooth, quindi scopriamo che c'è la fazione di mutanti, una capitanata dal Professor X, interpretato da Patrick Stewart, e un'altra di mutanti un po' più di matrice terrorista, che vogliono distruggere la razza umana, perché la razza mutante è, secondo loro, superiore, capitanata da Magneto, personaggio interpretato dal incredibile, mai finirò di dirlo, Ian McKellen, Sir, il Gandalf del Signore degli Anelli. È il mio Magneto preferito. Poi, in futuro, vedremo anche una versione prequel di questi personaggi, ma a me mi ha sempre colpito veramente tantissimo Ian McKellen. È un personaggio travagliato. Il primo X-Men parte con un potentissimo flashback che ci mostra un Magneto da bambino ebreo ad Auschwitz, negli anni 40, che nel tentativo di raggiungere sua madre, da cui è stato separato, da questo cancello, viene trattenuto dai tedeschi, con questa mano che tende verso la madre, che trascina tutte le lamiere del cancello verso di sé, già mostrando i primi segni del suo genoma X. Tramite Wolverine avremo in contatto con Shark Xavier e tutta la sua scuola per giovani mutanti, con cui Wolverine farà un po' lo zunderino della situazione, no, oggi voglio andare, andate a panculo, però alla fine, dal cuore d'oro, comunque, rimane invece, aiuterà gli X-Men contro la fazione di Magneto. La storia, alla fine, è questa qua. È molto semplice, anche lì, il finale, molto super hero movie, c'è questa macchina, il piano di Magneto, per trasformare tutti gli esseri umani in mutanti, ed è un'idea figa sulla statua della libertà. Nel suo essere fumettistico, nonostante la sua fotografia più cupa, anche i costumi che comunque sono tutti neri, aveva questa visione non dark, comunque seria, viene rapito il politico da Magneto, che poi viene trasformato, una sorta di tizio acqua, ma poi comunque si sfalda e muore. È figa tutta la lotta ideologica fra Charles e Magneto. Non solo Ian McKellen odia gli esseri umani perché è un mutante e quindi viene considerato un pericolo dal resto dell'umanità, ma soprattutto perché è un mutante ebreo che ha vissuto la Shoah ed è potentissimo il passato di questo personaggio. Si entra in contatto con le motivazioni di Magneto e del suo gruppo di mutanti. Vediamo Mystica, Sabretooth, quello lì, Rospo tra l'altro. È un film ganso che ha dato origine a tanti tratti distintivi del superhero movie, dei cinecomic che vediamo oggi. Un film supereroistico come può essere gli X-Men può anche essere portatore di messaggi importanti. Assolutamente. I mutanti che vengono discriminati perché gli uomini hanno paura di ciò che è diverso. Oppure anche alcuni X-Men che detestano il loro gene X e vorrebbero tanto essere persone normali. Che odiano la loro condizione. E quindi messaggi come cercare l'accettazione. Cioè te ti devi accettare per come sei, te devi essere te stesso, non devi cercare di assomigliare a qualcun altro. Esatto. Quindi sono temi molto importanti. Attuali più che mai tra l'altro. Sì, per essere un primo film che dà il via poi a questa lunga saga. Davvero lunga saga. Per me il primo è ancora un buon film. Per quanto ha significato ed è stato secondo me importante per il filone cinecomic, neanche in tanta roba. Però effettivamente l'asticella si alzerà talmente tanto con alcuni dei prossimi film che va bene metterlo in buono. Rivedendolo ora, magari sì, si porta i suoi anni sulle spalle, però costume di magneto non è male. Non erano male, ma anche il fattore CGI, erano i primi anni 2000, la CGI che era, non era male, però era ben dosata. Sì, sì, sì. Cioè nei punti, soprattutto verso il finale, il combattimento tra Wolverine e Mystica. Vero. Mystica è resa molto bene. Mystica è fantastica. Anni 2000 però è resa molto bene. Ma perché quello è tutto trucco, ovvero. Ma anche quando lei si trasforma in un'altra persona. Anche quando si trasforma è un bell'effetto. È un bell'effetto. Veramente è un film interessante. Che ha dato origine a un sequel ancora più convincente. Esatto. Infatti adesso ragazzi andiamo a parlare di X-Men 2, sempre diretto da Bryan Singer. La trama ruota attorno ai mutanti che devono affrontare nuove minacce. Il film segue il team degli X-Men, sempre guidato dal Professor X, mentre cercano di fermare un misterioso aggressore che attacca il presidente degli Stati Uniti. Quest'attacco intensifica la tensione tra i mutanti e il governo, che diventa sempre più ostile verso di loro. Infatti la scena di apertura di X-Men 2 è tra le più fighe della saga. Facciamo la conoscenza di un nuovo mutante, Nightcrawler, dove il suo potere consiste nel teletrasportarsi dove vuole. E qui ritorna uno dei temi di cui vi avevo già parlato nel primo film, ovvero l'accettazione di se stessi. Nightcrawler detesta il suo essere mutante, dato anche dal suo aspetto. Lo avvicina molto a essere un po' il diaulo. Infatti lui stesso si vede come un errore e infatti nel suo corpo si è tatuato, si è inciso molti simboli religiosi. Gli X-Men devono allearsi con alcuni dei loro vecchi nemici per sventare una cospirazione che potrebbe portare alla distruzione di tutti i mutanti. Infatti ragazzi, per me qui Bryan Singer si supera, fa molto meglio rispetto al primo film. Una cosa che ho molto apprezzato, che alla fine penso sia alla base dei film sugli X-Men, è il rapporto sia tra il Professor X che Magneto, ma anche il rapporto tra il Professor X e gli altri mutanti, quelli che lui considera la sua famiglia. Tutti i rapporti che c'è tra di loro, Wolverine con Ciclope, Wolverine con Jean Grey. Infatti Wolverine si mette in mezzo tra Ciclope e Jean Grey. Certo, questa rivalità già la vede, ma un pochino nel primo con il artiglio medio tirato su. È vero. E più tra tutti, come ho già detto, il rapporto tra il Professor X e Magneto. Loro, sia nella vecchia trilogia, ma poi anche in quelli dopo, con i giovani attori, sono riusciti a fare molto bene il loro rapporto di fratellanza alla fine. Dove entrambi hanno lo stesso obiettivo, aiutare la comunità dei mutanti, però avendo due visioni completamente opposte. Da una parte il Professor X, dove vede ancora una speranza umani e mutanti possano convivere insieme, mentre dall'altra Magneto, per far sì che i mutanti vengano accettati nella comunità e dimostrare la loro superiorità e quindi vincere questa ipotetica guerra che Magneto ci dice nel film, ma ci dirà anche nei film successivi, dovrebbe prima o poi arrivare. E quindi il loro rapporto è stato costruito veramente bene. Un'altra cosa di questo film è che si intravede anche il passato di Wolverine. Wolverine non si ricorda cosa è avvenuto prima che gli venisse impiantato là da Mantio nel suo interno. E infatti qui come Villain c'è Stryker. E questo secondo me è un altro punto di forza estremo del film, che il cattivo è un semplice essere umano. La maggior parte dei film di supereroi di ora, o anche purtroppo alcuni sequel fallimentari negli X-Men, il cattivo deve essere rovoante, qualcosa di oddio, incredibile, impressionante. È un cazzo di essere umano semplicissimo. Ma anche il rapporto con Wolverine è come una sorta padre figlio. Vieni con me e io ti racconterò chi eri prima di diventare ciò che sei ora. Un'altra cosa, ci sono alcuni flash perché Wolverine inizia piano piano a ricordare che sembra quasi orrorifico. Lo è, lo è, orribile. Cioè di tutti questi vicino a lui, che lui è all'interno di questa vasca, con queste maschere nere, di lui che poi riesce a scappare, tutto sporco di sangue, che urla con gli artigli che gli escono di fuori. Incredibile. È veramente molto bello. No ma è fatto molto bene. Striker tra l'altro ha un figlio paraplegico che è un mutante. Quindi Striker non solo gli serve, diciamo perché ha un potere molto particolare, suo figlio. Infatti l'odio che Striker ha nei confronti dei mutanti lo ha riversato anche sul suo figlio rendendolo lui stesso paraplegico. E suo figlio è un po' come il Professor X. Anche lui è un telepate molto potente e infatti sfrutterà questo potere di suo figlio per portare a termine il suo piano, ovvero la distruzione di tutti i mutanti. E infatti i buoni e cattivi si dovranno unire per sconfiggere e strikere. Infatti andranno a chiedere aiuto a Magneto, che si trova in questa prigione fatta di plastica, così che lui non possa utilizzare i suoi poteri. Da bambino quella scena l'ho disegnata mille volte, mi garbavano un voto, dovevi uccidermi finché ne avevi l'occasione! Va con la musica! Sì. C'è una colonna sonora, tra l'altro, incredibile, non si è detto per il primo film. Sia nel primo ma anche nel secondo, la colonna sonora è fantastica. La musica è iconica, ragazzi. È diventata iconica. È diventata iconica. Infatti il piano di striker qual era? Quello di utilizzare il potere del professor X, controllato da suo figlio, per distruggere e eliminare tutti i mutanti sulla faccia della terra. E per farlo aveva bisogno di cerebro, che aiuta il professor X nell'ampliare i suoi poteri. E per farlo aveva bisogno della piantina per ricrearlo. Infatti abbiamo un'altra scena fantastica all'interno del film, quella dell'assalto alla scuola, dove abbiamo un Wolverine, perché è rimasto da solo, faceva il babysitter per questi giovani mutanti, dove mostra tutta la sua ferocia, taglia gole, braccia. Mi piace il fatto che figlio di striker funzioni un po' da voglio rendere orgoglioso mio padre per quello che sono, però poi viene rigirato anche lì da magneto. Infatti poi ricreando cerebro, all'inizio i mutanti iniziano a soffrire, perché il professore sta utilizzando il suo potere. Poi viene fermato da Magneto, riesce a bloccare il figlio di striker, però Magneto continua a provare ancora odio verso gli umani e allora vediamo la scena dove inverte i pannelli all'interno di cerebro, così che abbia l'effetto opposto. Invece di uccidere i mutanti, uccidere tutti gli umani. Comunque anche lì, grazie all'aiuto dei nostri X-Men, riusciranno a salvare e a fermare il professore, così da salvare anche poi il resto del mondo. E' bello anche il finale dove Wolverine, Logan, riesce a fermare Striker e gli chiede ma chi sono, io chi ero? Striker, se mi liberi io te lo dirò. Però Wolverine dice ciò che ero non ha importanza, l'importante è ciò che sono ora, ciò che faccio con le persone vicino a me. Infatti mentre lo dice c'è anche un bambino, ti ripensa al futuro di questi bambini. La trama è più stratificata secondo me anche del primo film. Tra l'altro c'è la storyline di Rogue con Iceman, che comunque si evolve, è portata avanti. Nel due, tra l'altro troviamo Piro, personaggio Piro. Aggiunge una S e diventa il draghetto viola. E qui altra cosa importante, che poi ci servirà per il terzo film, Jean Grey si sacrifica per salvare gli X-Men. La diga si rompe, quindi stanno per essere inondati. Lei si sacrifica. Jean Grey, grande amore di ciclope. Altra cosa, qui una curiosità, che anche la prima volta che vedo questo film, mi domanda perché? Il film si apre con Wolverine, perché nel primo film, Seve ha detto, ti aiuti gli X-Men, io ti posso aiutare a ricordare il tuo passato. Infatti lo manda nella base, tutto innevato, però non trova niente. E c'è questa scena di Wolverine, che cammina mentre vede anche un lupo. Primo piano del suo sguardo, è pulitissimo, che ha una barba messa perfetta, i capelli gelati in un modo perfetto, proprio simmetrici. Tu dici, capelli anche un po' sbarazzini, in alcune sequenze. Lì invece è perfetto, uno dice, perché? E andando a informarmi, perché quella scena, venne utilizzata, per fare pubblicità al film, per mostrare Wolverine, come sarebbe stato nel film. E quindi l'avevano tutto pulito, era un po' strano. Ok. E quindi dove lo mettiamo, sto X-Men 2? Oddio, io ho indeciso, se è tanta roba o God Tier. Sai che è tosta effettivamente? Mettiamone tanta roba. Va bene dai. Diciamo che il livello poi si alzerà ancora, però X-Men 2 è veramente incredibile. Diciamo che la bellezza poi del secondo film, troverà un po' la sua distruzione, nel terzo film. Terzo film. Criticatissimo e molto discusso, X-Men, conflitto finale. Terzo film, di questa ideologica trilogia originale, dei film degli X-Men, che parte anche con un pretesto interessante. Il film si apre con la scena di Angelo, personaggio comunque degli X-Men classici, io comunque sono non un eccessivo fan degli X-Men fumettistici, ma alle mie spalle potete vedere un bel po' di robina bella. Fa parte del primo gruppo storico degli X-Men. Diciamo, qui viene presentato anche in maniera interessante, si vergogna delle sue ali, si vorrebbe strappare e poi fugge. Questa scena in cui si nasconde dal padre, è molto d'effetto. Padre che poi cercherà di creare questa formula, per distruggere il gene X negli esseri umani che ne sono affetti. E alcuni dei mutanti trovano questa cosa utile, perché ci sono alcuni mutanti che odiano la loro situazione e il loro essere rogue, prima di tutte. Perché è comunque una crista che se tocca qualcuno, gli ruba l'energia vitale e lo svuota uccidendo. Non potersi toccare con il ragazzo che ti garba, è una relazione un po' complicata. E quindi lei è la prima che subito dice cazzo, lo voglio prendere immediatamente. Infatti si distacca poi dagli X-Men, si distacca da Iceman, rimane col ghiacciolo in mano. Poi invece abbiamo anche... Poi nel film vediamo lo sviluppo anche del piano di Magneto, di voler distruggere questa casa farmaceutica, con un attacco diretto al loro genere per distruggerla. E qui vediamo anche un po' la stronzaggine di Magneto. Infatti secondo me è una cosa di scrittura un po', non dico traballante, però me l'aspettavo un po' diversa come risposta da parte sua. Il fatto che quando Mistica, sua non dico amata, però quasi, cioè sicuramente è sotto la sua ala protettiva da tanti anni, quando nemmeno volontariamente viene curata dal suo fattore mutante, lui la rifiuta. Eh ora non sei più parte di noi. Non lo so. Sì effettivamente è un cattivo Magneto, però non l'ho mai visto in quella chiave di cattivo. Non mi piaceva tanto che schifasse Mistica dopo perché... Perché era tornata umana. Perché è tornata umana. Ma infatti è ancora un'altra non mi è piaciuta e... Purtroppo qui non c'è Bryan Singer. Non c'è Bryan Singer alla regia. C'è Brett Ratner. Per me anche il rapporto tra il professor X e Magneto, non lo so se va un po' a perdere. Nella scena quando muore, alla fine erano i migliori amici, erano come fratelli. Alla fine lo vede morire, sì rimane un po' lì, oh Dio, però va da Jean Grey, vieni con noi. Sì perché Jean Grey, come detto prima, si sacrifica alla fine del secondo film per salvare tutti dalla diga. Allo stesso tempo ritorna perché, come dice Shark Xavier, in realtà lei è la mutante più potente di tutti. Dentro di lei è la Fenice. Ecco cercano di adattare uno dei cicli di storie più importanti della Marvel degli anni 60 e 70, ovvero il ciclo di Fenice Nera, che ho anche qui alle mie spalle, in cui Jean Grey muore. Muore perché posseduta, questo spirito, un alter ego potentissimo che la consuma da dentro, la fa diventare stronza e cattiva, e soprattutto overpowered a livelli incredibili. Infatti Wolverine, costretto a ucciderla, quando lei ha il Shark Xavier, ammazza pure Ciclope in una scena che, boh, va bene, muore Ciclope così, quindi il tutto culmina in una scena, per carità, anche di impatto, quando Wolverine la ammazza. È l'unica scena. È l'unica scena. Perché lui si può rigenerare. Quella scena comunque è figa, perché lei fa vaporizzare le persone. È figo che Wolverine ritoglie la pelle e si vede un po' l'adamantio delle ossa. Sì, non è male. Da vedere è figo. Gli effetti non erano malvagi. Abbiamo Miglior Bestia, secondo me. C'è Bestia, sì. C'è Bestia. Personaggio comunque interessante e visivamente molto convincente, molto figo. Abbiamo Il Fenomeno, che dice una delle linee di dialogo migliori del film. In italiano, sono Il Fenomeno, ma in inglese I'm the Juggernaut, bitch. Insegue Kitty Pryde, personaggio nuovo che passa attraverso qualsiasi parete, qualsiasi materia solida, interpretata da Lafoo, Ellen Page, ora Elliot Page. Tornerà anche nei film futuri. Che dire, è un film con diversi problemi perché c'è anche lì la battagliona. Uno, in un terzo film degli X-Men, dice, stavolta ci sono tutti i mutanti boni oltre tutti i mutanti cattivi. Se vi ricordate il cartone animato degli X-Men, ora è ritornato anche un po' alla ribalta con la Marvel che ha fatto il revival, vi ricorderete magari nella sigla, quella originale, non quella cantata da Cristina D'Avena per l'amor di Dio, che nella intro ci sono, prima che si forma il logo degli X-Men, queste lande desolate, tutti quelli cattivi contro quelli boni, boh, cioè una cosa, una battaglia, una figata totale. In questo film il conflitto finale è lì. C'è il fenomeno sfonda du parete, bestia, esalta un po' di qui e di là, Piro e dice eccomi e poi more. Sì, c'è lo scontro tra lui e l'uomo ghiaccio. Lui e l'uomo ghiaccio. Quindi boh, cioè un film che salvi per qualche scena, è abbastanza deludente, soprattutto se si pensa da i due film che l'hanno preceduto. E tra l'altro il finale mi ha ricordato Batman vs Superman. Torco 2. Nel finale di Batman vs Superman che c'è? C'è la tomba di Superman. Ah sì. C'è la terra che si alza. La terra si alza. Magneto qui perde potere perché viene siringato. Esatto, sì. Nel finale è lì con la scacchiera davanti. Cerca di farlo muovere. Prima di staccare il film si vede una pedina che si muove, che sta riacquistando i poteri. La scena non mi dispiaceva nemmeno tanto. Secondo me è mille volte meglio della terra e dei terriccio di merda. Ah, il motivo per il quale infatti si dovrebbe domandare scusa, ma il primo è diretto a Bryan Singer scusa, fa riconcludere la trilogia. È vero. È perché quello stesso anno usciva Superman Returns. Era meglio se rimaneva a fare gli X-Men. Superman Returns non è una merda. Era meglio se rimaneva a finire la trilogia di X-Men. a questo punto la trilogia e andava a fare Superman. Sì. Quindi dove lo buttiamo sto X-Men 3, conflitto finale? Qualcosina che si salva è stato fatto di peggio. Alla fine è un film da 5. Sì. Sotto? No. Vabbè, dai, buttiamoli in medio. Giusto perché ci saranno cose che voi umani molto meglio, tra l'altro, del film di cui Alessio sta per parlarvi. Esatto, ragazzi, perché finita questa trilogia la gente, tutti chiedevano dateci più Wolverine. Vediamo più Wolverine nelle nostre vite. E quindi, nel 2009, chi fanno le origini di Wolverine? La storia si apre in Canada nel 1845 dove facciamo la conoscenza di un bambino di nome James Howlett, il vero nome di Wolverine, che scopre i suoi poteri da mutante. Infatti, abbiamo la scena dove urla mentre questi artigli fatti di osso gli escono dalle mani e si scopre poi in seguito che ha anche notevoli capacità di guarigione. James scappa insieme a suo fratello Victor. Infatti, poi abbiamo un timeskip dopo molti anni e vediamo che Logan e Victor partecipano a molte battaglie, per esempio le guerre mondiali, la guerra anche in Vietnam e verranno poi reclutati da questo generale di nome Striker che sta mettendo su una squadra di mutanti. Infatti, facciamo anche la conoscenza di Wade Wilson interpretato da Ryan Reynolds che in teoria dovrebbe essere Deadpool. Abbiamo Will.i.am, sì, esatto, il cantante, anche lui un mutante. Devono fare questa missione dove il generale Striker vuole prendere questa roccia che la chiama Adamantio per dei suoi scopi personali però poi qui vediamo che Logan Wolverine è stanco di combattere tutte queste guerre e decide di mollare la squadra. Infatti, poi trova questa ragazza con cui vuole vivere felice fino a che non verrà uccisa dallo stesso Victor e quindi qui Logan è accecato di vendetta e Striker gli offre la possibilità di vendicarsi però si deve sottoporre un esperimento consiste nell'impiantare all'interno del suo corpo l'Adamantio così da trasformarlo in un'arma indistruttibile e da qui poi cercherà vendetta per uccidere suo fratello che poi lo porterà a una scoperta sorprendente nel finale. Wolverine è stato molto criticato e l'hanno detto di cotte di crude e io riguardandolo vi devo dire la prima parte la posso anche salvare è interessante comunque le sue origini perché al fine Wolverine è un mutante che ha 200 anni sulle spalle si trasferisce in Canada dove fa il falegname lui è canadese si si l'artigliato canadese ci spiega il film perché lui si chiama Wolverine perché la sua compagna racconta una fiaba da dove ha origine il nome Wolverine è ghiottone poi in inglese quindi l'inizio era abbastanza interessante per me il film inizia a scemare sempre di più dalla seconda parte da quando lui prende l'Adamantio che poi tra l'altro c'è l'esperimento Arma X fatto appunto da Striker è una scena che poi ti fanno regustare in X-Men 2 per come poi è resa ti viene da dire era fatto meglio in quelle poche scene di X-Men 2 è un po' come il passato di Black Widow raccontato in Age of Ultron cioè è meglio in Age of Ultron che poi nel film che hanno fatto su Black Widow infatti nel film le origini Wolverine esce da questa vasca tutto bello pulito i capelli pettinati in X-Men 2 si vedeva Logan che si rintanava in questa grotta con questa fotografia verde sporco di sangue con gli artigli che gli escono dalle mani mentre urla una scena straziante qui invece è bello pulito e altro problema di questo film ragazzi dai dillo è la CGI ah ok nella prima parte non serve infatti ci sta ma dalla seconda parte un po' del film si mangia il film perché è anche brutta vedi quando la gente salta e sono finti Wolverine che è questa scena che deve tagliare una scala che vedi Giuseppe ma il regista gli avrà detto fai così con le mani e fai finta di tagliare una scala e si vede sta a fare scena tutto in CGI brutto che cagata ma mai una cagata grande quanto l'inserimento di Deadpool esattamente anche il modo in cui viene introdotto da Striker perché lui stava cercando di creare il mutante perfetto era un mutante con i poteri di tanti altri mutanti infatti qui c'è anche Ciclope questo è un film anche che l'hanno voluto fare per dire eh guarda perché in quel film è fatto in quella maniera guarda perché i suoi poteri sono così infatti Ciclope perché ha bisogno degli occhiali nei primi film se apre gli occhi distrugge tutti esatto e qui hanno voluto spiegare perché lui all'inizio gli occhi li poteva anche tenere aperti un pochino però poi viene preso da Striker gli fa una sorta di impianto gli prende non gli stacca neanche gli occhi io non so come fa poi perché i suoi occhi li mette nel corpo di Deadpool infatti dopo avergli fatto questo esperimento lui non può tenere gli occhi aperti se no fa casino ma anche Deadpool lì Striker si vede Logan arrivare perché si scopre colpo di schiena che la sua fidanzata in realtà è viva cioè si era messa in combutta con Victor e Striker già che gliela butta al culo anche la strunza perché tutto era partito da Striker perché voleva far crescere l'odio dentro Wolverine dentro Logan così poi da poterlo utilizzare come arma però poi alla fine si scopre niente l'hanno tutti fregato sto paro Logan si si gliel'hanno veramente buttata tutti nel culo e infatti mentre stanno a parlare c'ha davanti il corpo lì di Ryan Reynolds con gli occhi aperti e fa questa è l'arma definitiva lui è pool e l'onki Deadpool che tra l'altro Deadpool che all'inizio Ryan Reynolds perché ti dice eh ma te parli troppo cioè questa parlantina no da rompicazzo Ryan Reynolds che è proprietà proprio del personaggio sono le caratteristiche di Deadpool essere un rompicazzo e ovviamente gli cucinano la bocca va bene che poi comunque è anche il design che ha ci distacca molto poi dal Deadpool che faranno il film anche qui hanno voluto citare quando utilizza i poteri di Ciclope gli vengono i rumbi agli occhi neri come nella maschera di Deadpool si ma che cazzo vuol dire si proprio dire oddio adacitiamo la sua maschera che cagata nel finale hanno voluto spiegare ma perché Wolverine ha perso la memoria perché noi lo conosciamo Wolverine che non sa nulla Striker lì c'ha la valigetta una pistola i proiettili da damanti e fa se io non lo posso controllare allora lo ucciderò e passa un'infermiera lì sta passando però l'ha sentito Striker si affaccia alla porta guarda che è inutile perché tanto si rigenera si si rigenera ma si scorderà tutto perché uno può dire vabbè c'ha la damanti o in testa forse non lo può ricettare quindi chi rimane dentro la testa si scorda le cose può essere però non viene detto questa cosa e poi io rivedendolo me ne ero anche scordato qui c'è Patrick Stewart io me ne ero scordato non me lo ricordo infatti in che scena perché alla fine nel laboratorio di Striker c'erano altri mutanti intrappolati tra l'altro in una cella frigorifera fanno vedere un ragazzo che ha un occhio diverso c'è uno è blu uno è marrone ed è il suo figlio e niente libra gli altri X-Men tra cui Cyclope e altri e che è Wolverine X-Men le origini si non sanno come scappare e Cyclope nella sua mente sente una voce che è Patrick Stewart e gli dice vai di qui vai di là così potete scappare e ho detto quando l'hanno fatto vedere era il periodo dove l'intelligenza artificiale non era ancora stata inventata però ci hanno provato se lo vedete ora è di un finto è di un plasticoso io non so se è perché hanno voluto ringiovanirlo c'ha questa faccia tirata che non è l'espressione la CGI della di Patrick Stewart ringiovanito poi io ora non ci credo per fare questa scena non avessero avuto un bosco sotto mano i ragazzi stanno scappando per andare verso Patrick Stewart loro stanno correndo verso un green screen hanno preso un bosco e l'hanno appicciato e vedi questi ragazzi che rimangono fermi sul proprio posto madonna e poi non so se te Roberto sai c'è un retro scena dietro sto film quale? questo film un mese prima dell'uscita al cinema uscì piratato in HD ma come? oddio me la ricordo sta cosa ma come? prima della post produzione i file erano tutti messi per bene mamma mia però si potevano vedere i momenti dove si avevano ancora i cavi la gente parlava dietro un green screen bello scandalo non si è mai scoperto come uno dice vabbè uno lì della post produzione oppure un hacker che è riuscito a prendere il file questo fu anche il primo film sì il primo film dove Jackman ha detto è l'ultimo ebbè perché comunque tutte le critiche ma non è la prima non è l'unica volta che dirà è l'ultimo ok però qui dopo tutte le critiche il casino ha detto eh ragazzi addio diciamo che questo film è veramente cioè la prima parte la prima parte è guardabile cioè ci sta è dalla seconda parte in poi che è un casino dietro l'altro io mi sento più cattivo nei confronti di questo film da metterlo sinceramente in brutto lo vuoi mettere in brutto? facciamo così ragazzi per ora lo infiliamo in me poi a seconda dei film che verranno dopo magari scenderà ok la prima parte non è malvagia i titoli di testa mi ricordo erano carini perché appunto ti fa il riepilogo si ispira tra l'altro ti mostra il passato ispirato a Wolverine Origini che è un fumetto secondo me fenomenale di Wolverine però riassumendolo in due secondi per me ci potevi fare un intero film solo sul prologo cioè solo l'inizio del film è stato più interessante molto più interessante secondo me passiamo adesso invece a X-Men l'inizio first class in cui arriva alla regia Matthew Vaughn chi non conosce Matthew Vaughn magari avrà visto Kingsman che dire X-Men l'inizio è un film con delle idee molto potenti torniamo al flashback del primo film degli X-Men di Bryan Singer in cui esploriamo il passato di Magneto vediamo il piccolo Eric che dopo che ha mostrato i suoi poteri viene interrogato a questo generale nazista il problema è che non ci credete che è un tedesco vero perché Kevin Bacon non ci assomiglia a un tedesco ha il volto più americano del mondo per l'uomo arriva da lui e diciamo lo costringe a far rivelare i suoi poteri o se no gli fa fuori la mamma Magneto non riesce a utilizzare i suoi poteri davanti a lui immediatamente a comando e quindi gli fa fuori la madre poi il film si basa tutto sul mostrarti di nuovo le origini in realtà di questi X-Men ma in maniera sinceramente molto migliore di X-Men le origini vediamo anche un recast dei personaggi per farli più giovani Shark Xavier è interpretato da James McAvoy Michael Fassbender interpreta Magneto e il film si basa sul loro rapporto che carria tutto il film è fantastico Magneto cresciuto vuole vendicarsi di Kevin Bacon incontrerà Shark Xavier che è un festaiolo impazzito e si droga dal mattino alla sera fa festa e tromba di via e di là a destra e sinistra con capellone ovviamente che poi verso la fine del film creerà la scuola per giovani mutanti e il suo rapporto all'inizio di tanta amicizia con Fassbender un po' si andrà a deteriorarsi che dire è un film che analizza molti temi sociali scottanti le armi nucleari dei vari stati del nostro pianeta di cui Magneto si vuole disfare per rappresentare lui come mutante in generale i mutanti come la vera minaccia per la razza umana Xavier ovviamente idee contrapposte alle sue e questo rapporto è veramente mostrato in maniera ottima abbiamo anche Mistica che scopriamo essere all'inizio una brava guagliona interpretata da Jennifer Lawrence che conosce James da bambini il problema del loro rapporto è che secondo me è leggermente tirato nel senso mi fa un po' ridere che il professor X dica no ma non ti posso trombare perché lei veramente gliela darebbe gratis proprio ti prego ingravidami professor X però lui dice no ma io ti vedo di più come un rapporto di amicizia un rapporto familiare e infatti Xavier poi alla fine avrà un rapporto un po' più particolare con una governatrice una che poi si farà amica durante il film e che cercherà di rendere degli agenti governativi i primi X-men questo rapporto secondo me di lei che si vuole trombare il professor X poi è il motivo per cui lui dice no non voglio per cui se ne va con Magneto dice Magneto ma te sei bellissima così non ti devi vergognare il professor X gli dice guarda devi metterti da essere umana per non dare nell'occhio e invece Magneto dice perfection e quindi allora lei si sente anche in pace con il suo stesso corpo tra l'altro il rapporto fra lui e Fassbender è talmente bello fra di loro che sembra si vogliano trombare loro due e per questo secondo me per rendere il professor X meno gay nel film te l'hanno voluto mettere con questa romance quasi inesistente con quest'altra tizia governativa tra un pochino era meglio cioè era più credibile che si trombasse Magneto perché manca solo la carnalità fra loro due però vabbè è un po' in quella maniera là tra l'altro quando cercano di rendere la gente governativi gli X-Men ci sono proprio secondo me delle scene degli X-Men giovini che fanno le cazzatelle vediamo anche bestia interpretato da Nicolas Hout più che altro un proto bestia perché per il momento diciamo anche nel film e quando si rapporta con gli altri ragazzi fa vedere che oh io lancio Diobono i o io spaggio raggi fotonici dalla trippa o quell'altro è io volo poi c'è Zoe Kravitz che ha le aria e gli escono da tatuaggi boh vabbè che tra l'altro spara pure le palle di fuoco per me è una roba orribile a parte quello viene fatto vedere invece il potere oddio di Nicolas Hout io ho i piedi strani io ho i piedi strani ci sono delle battute incredibili del film vabbè che si facciano holly fans non lo so il film è pieno zeppo di battute sessuali che stonano secondo me il rapporto che vi dico fra Mistica e Xavier mi è risultato un po' ridicolo perché è molto accentuato da delle battute sessuali che fanno anche ridere certe volte quindi non so è un film che non è male ma per me ha dei problemi nonostante ha delle scene incredibili ovvero quando poi si devono scontrare con Kevin Bacon che in realtà non è invecchiato è un mutante pure lui tra l'altro utilizza l'elmetto iconico che poi Fassbender si prenderà perché lui per tutta la vita Magneto ha cercato di inseguire Kevin Bacon e farlo fuori tra l'altro si porta dietro a Kevin Bacon Azazel Emma Frost Emma Frost è un personaggio molto interessante che qui vale zero caratterizzazione che non esiste del personaggio il conflitto finale con Kevin Bacon è molto figo la moneta che gli aveva dato un nazista che gli penetra la testa come è girata e montata la scena con Xavier che intanto lo controlla per farlo stare fermo Kevin Bacon non fargli utilizzare i poteri per combattere contro Magneto che nel frattempo sente tutto il dolore nel mentre Kevin Bacon viene ucciso una scena bellissima allo stesso tempo però Matthew Vaughn secondo me nella scena quando Magneto è bambino e Kevin Bacon gli ammazza la mamma è troppo sopra le righe perché lui distrugge tutto e ammazza alcuni soldati non capisco perché non ammazzi Kevin Bacon a sto punto anche là eserciti la tua rabbia sui soldati che non l'hanno uccisa lasci in vita quello che gli ha sparato alla tua mamma e che succede che la messa in scena fa ridere perché dall'inizio è drammatica questo bambino che urla ma questa scena poi questo qui urla per 20 secondi interi oh no viene tirata troppo per lunghe sta scena e risulta ridicola secondo me oh no purtroppo Matthew Vaughn non è uno da film drammatico è uno da film cacciarone divertente commedia sopra le righe sconcia come appunto lo è Kingsman tra l'altro ci sono alcuni effetti che mi fanno veramente schifo oh no c'è bestia con un trucco che fa cagare bestia con il trucco quando poi si trasforma totalmente c'è un trucco che fa schifo in confronto anche a X-Men 3 c'è Zoe Creviz che vola con le ali da ribellula quello che è che sputa palle di foda alla bocca per me è una roba orribile da guardare quelle cose lì quando poi è sulla sedia a rotelle quando parla la tizia lì del governo devono tirare fuori il fanservice fatto di merda adesso sono in sedia a rotelle ci manca solo che sia pelato madonna ragazzi ma anche quando Magneto dopo aver ucciso Kevin Bacon dall'altra parte della spiaggia i russi e gli americani che lanciano le loro testate sulla spiaggia per uccidere tutti i mutati e Magneto li ferma Xaveri dice no fermo non lo fare loro stanno solo eseguendo degli ordini e Magneto gli dice tutta la vita sono stato vittima di persone che seguiva gli ordini dialoghi bellissimi ma era molto bello dialoghi bellissimi film con una marea di pregi ma una marea di difetti tra le curiosità che ho trovato qui per esempio abbiamo Magneto e Xaver che devono reclutare i nuovi X-Men ah si c'è anche la comparsatina di Hugh Jackman che ovviamente li manda a fanculo è sempre uguale perché appunto lui non invecchia si si e quella battuta l'ha improvvisata in realtà doveva esserci un dialogo tra loro Hugh Jackman non ha detto niente perché lui ha detto Wolverine non direbbe mai queste cose lui la prima cosa direbbe è andate tutta a fare in culo perché non vuole far parte di Hugh Jackman ha tirato fuori anche tutto tutto l'astro che va verso la produzione del film precedente e infatti se ci si fa caso visto che ha sorpreso tutti c'è Fox Bender che guarda dice ore che si fa e infatti loro poi se ne vanno subito perché pensavano di dover rigirare la scena invece poi Matthew V ha detto tienila e quindi dove si mette è un film carino sì alla fine allora ripeto tutte le robe negative che ho detto che rendono il film visivamente trash per gli effetti speciali certe volte secondo me il resto è veramente di livello quindi dai mediocre no lo metterei in buono lo metterei in buono come il primo X-Men nonostante il primo X-Men io lo preferisca sinceramente e adesso ragazzi si arriva il siglo comunque diciamo il secondo film dedicato a Logan a Wolverine che culo e abbiamo Wolverine l'immortale e beh del 2013 diretto da James Mangold la storia di Wolverine l'immortale si svolge pochi anni dopo gli eventi di X-Men conflitto finale qui vediamo un Logan che è tormentato dalla morte di Jean Grey infatti ha lasciato il suo X-Men vive isolato nei boschi e continua a fare costanti incubi perché perseguitato dal senso di colpa avendo ucciso Jean Grey però un giorno fa la conoscenza di Yukiko anche lei una mutante che il suo potere consiste nel prevedere la morte di altre persone arriva da Wolverine perché Yukiko è stata inviata da questo Yashida un magnate che vive in Giappone che Logan salvò durante la seconda guerra mondiale quando Nagasaki fu bombardata e questo Yashida che è malato e prossimo alla morte vuole rivedere Logan per un'ultima volta per ringraziarlo ma anche per offrirgli un dono essendo Logan un mutante con un notevole fattore rigenerante è praticamente immortale però questo Yashida potrebbe renderlo mortale di questo film io dico due scene te le ricordo come per esempio la scena che vi ho detto poc'anzi ovvero del bombardamento a Nagasaki dove questo giovane soldato giapponese vede la bomba che sta per cadere e Wolverine lo prende e lo porta con sé in questa sorta di pozzo dove utilizza il suo corpo per proteggerlo mentre Wolverine viene bruciato e infatti anche lì figa la scena che grazie al suo fattore rigenerante come riesce a rigenerare tutto il suo corpo e questa è una scena figa pure quando arriva in Giappone deve combattere contro la Yakuza la mafia giapponese su questo treno che va ad una velocità impressionante però allo stesso tempo non ha senso perché c'è Logan che può fare quelle mosse che rimane sul treno per due ore ma con gli altri due minchioni della mafia giapponese della Yakuza dopo due secondi dovevano crepare però rimangono al suo livello oltre a queste due scene il film non ti lascia poi chissà che vediamo infatti poi Logan che accetta l'invito di Yukiko arriva in Giappone da questo Yashida e come vi ho già detto lo vuole si salutare però vuole togliere questa sua immortalità perché la vuole lui vivi da ormai più di duecento anni vorresti morire non ci riesci ci penso io dalla a me la tua immortalità così io ritorno giovane e continuo a essere qui il capo del mio impero che ho costruito e gli dice che non morirà subito potrà farsi una famiglia avere dei figli invecchiare e poi un giorno morire e Logan giustamente gli dice ma guarda è un po' impossibile perché certe cose non si possono cambiare Yashida gli dice guarda qui noi possiamo fare di tutto e infatti da quando gliela leva forse la cosa che contraddistingue Wolverine il fatto che tutti gli possono sparare tutti gli possono fare le catre e vuole ma lui si rigenera togliendoglielo questo fattore boh è Hugh Jackman che corre per i set riesce a togliere l'immortalità attraverso un apparecchio che vedremo poi in seguito viene messo mentre dorme da questa viper viene chiamata anche lei una mutante una sorta di serpente che aggeggia con veleni e gli riesce a impiantare questo sorta di apparecchio al cuore che gli blocca il suo fattore rigenerante non viene spiegato come però vediamo che Lugan poi non riesce più a guarire poteva essere interessante come idea perché prendi un personaggio immortale che gli spari e non gli fai un cazzo in questo finito lo volevano rendere più fallibile però il fatto che gli abbia tolto il fattore rigenerante durante il proseguire del film questa cosa non la percepisci per tutte le botte che ha preso le coltellate alla schiena gli hanno sparato alle gambe lui comunque continua a correre sembra che il fattore rigenerante ci sia ancora sia ok ha le ferite aperte però continua a fare di tutto continua a fare i grandi salti diciamo che nel film è reso come se io piglio Alessio gli spacco una rotola e lui fa aia comunque si ragazzi da quando lui perde il fattore rigenerante per tutto il film non succede niente che è Hugh Jackman che corre per il set fino a che riesce a scoprire il perché non si rigenera più vede che c'è questo apparecchio attaccato al cuore e questa è un'altra scena carina di lui che si taglia il petto e infila la mano per prendere l'apparecchio attaccato al cuore infatti una volta che se lo stacca il suo fattore rigenerante di mutante ritorna e infatti c'è anche una bella scena quando combatte lì con il figliolo di Yashida poi il terzo atto cioè alla fine ragazzi Wolverine combatte contro l'armaturona gigante a forma di samurai che ha la spada lunga quanto vuole andare a salvare la nipote di Yashida infatti anche durante i film ci sta un po' insieme infatti ci va anche a letto si arriva al momento dove si deve confrontare con questo silver samurai dove al suo interno chi abbiamo Yashida colpo di schiena era vivo cioè ha fatto finta di morire chi l'avrebbe mai detto forse perché durante il film non c'era nessun cattivo di rilievo che poi Yashida con questa sua lunga spada che tenendola a due mani diventa di fuoco riesce a tagliare gli artigli di Wolverine che poi gli vuole infilare questi suoi aghi all'interno delle ossa che erano rivestite di adamantio così da assorbire il suo fattore rigenerante quindi la sua immortalità così lui da diventare giovane boh non si capisce come vabbè lui infatti dice la sua società può fare tutto quindi può fare anche sta osa nel combattimento finale abbiamo anche questa viper che avevo già citato all'inizio del video lei ragazzi ha una caratterizzazione che veramente non esiste per tutto il film ha sputato un po' di veleno qua e là non sa veramente di nulla c'è una scena che la riguarda e non ha senso nemmeno quella forse perché le avevano fatto un graffio l'avevano colpita da una parte vabbè dai cambiamoci e fa la muta e diventa pelata tra l'altro non ti fa nemmeno vedere come fa se è tolta tutti i vestiti e se è fatta la muta le rimette quindi se è denudata se è rimessa vestiti ok avrò fatto la muta mi riveste va bene poi infatti muore anche un modo viene legato un cavo al collo poi viene tirata via dall'ascensore e rimane impiccata poi ragazzi questo è un piccolo rage moment personale questo film è basato su uno dei cicli più belli di Wolverine in assoluto Wolverine scritto da Chris Claremont e disegnato da Frank Miller un ciclo in cui vediamo Wolverine con la sua amata Mariko il cui padre in Giappone è sto gran cazzo del capo di questo clan di ninja assassini e lui per poterla sposare non lo può fare perché lei dio dio tutto il discorso dell'onore giapponese del fatto che è legata a suo padre nonostante sia una merda fumetto molto sofferto un ciclo di storie veramente molto sofferente e qui i personaggi non hanno minimamente una forza particolare poi insomma dopo un combattimento epico tra Logan e questo Silver Samurai vediamo che sta ringiovanendo perché ha infilato i suoi aghi Kimiko peglia un artiglio di Logan e glielo pianta al collo si stacca dal Logan e vediamo che adesso gli ricrescono gli artigli non più di Adamantio ma di Osso come l'aveva in origine e prima di ucciderlo gli dice anche la battuta epica e lo lancia di sotto lì si fa tutta la rupa e poi esplode qui io penso sia il primo film dove la continuity mi inizia a dare fastidio perché qui gli vengono tagliati gli artigli e anche nel finale che incontra Magneto e Xavier ritorna perché nel 3 moriva ritorna in vita perché lui dice nel 3 il potere di trasferirla mia mente in un altro corpo quando ora andremo a parlare di giorni di un futuro passato gli artigli ritornano di Adamantio qualcuno mi sa che lì della produzione ha detto senti Wolverine l'immortale lascialo lì si si è successo della cosa però fai finta di nulla rimettigli in Adamantio tanto la gente non se ne accorge oppure anche se se ne accorge è più contenta perché in Adamantio sono più fighi che di osso oltretutto se Alessio si ricorda c'è una scena post credit che hanno eliminato quando sono sull'aeroplano alla fine e infatti non ha senso nel film perché c'è la tizia Yukiko che c'ha questa valigia poi sale sull'aeroplano questa valigia sparisce non c'è perché in una scena alternativa lei doveva dargli questa valigia vede c'è il costume classico di Wolverine intanto questo film lo buttiamo in me sì sì lo buttiamo in me dai perché conflitto finale è più divertente è più divertente conflitto finale in realtà parliamo ora di giorni di un futuro passato di Bryan Singer finalmente ragazzi questo ciclo di film insomma viene spezzato perché giorni di un futuro passato secondo me è uno dei migliori film degli X-Men mai fatti mai come ora il ritorno di Bryan Singer si fa sentire perché finalmente c'è l'incontro fra i due cast quello originale e quello vecchio prendendo di ispirazione una delle storie più interessanti del gruppo degli X-Men giorni di futuro passato in questo caso le sentinelle tengono d'occhio tutti i mutanti che sono diventati praticamente schiavi sono tenuti in lager in cui queste sentinelle questi robot con geni umanoidi creati da questo Trask queste macchine che possono utilizzare i poteri dei mutanti a loro volta per ucciderli sono rimasti questo gruppo piccolo di mutanti e sono Tempesta Wolverine Professor X Magneto e cosa viene fatto? viene mandato Wolverine indietro nel tempo ma in che maniera? in una maniera davvero interessante la sua mente di ora del futuro del loro presente viene trasferita nella sua mente del passato ovvero il corpo di Wolverine dell'epoca con la coscienza del Wolverine del futuro e quindi Wolverine con l'aiuto di Magneto e Professor X deve sventare l'omicidio ai danni di Trask l'inventore delle sentinelle che ha una sorta di comizio le presenta al mondo intero per sventare la minaccia del genoma mutante in questo evento Mystica ucciderà Trask sparandogli e questo evento scatenerà una serie di eventi effetto farfalla che convincerà sempre di più il governo della pericolosità dei mutanti scatenando le sentinelle sugli X-Men di conseguenza devono evitare che Mystica lo uccidi e quindi il film si basa tutto su questa premessa il film è diretto benissimo le scene d'azione sono meravigliose abbiamo un finale in cui Magneto solleva lo stadio è vero una roba meravigliosa abbiamo tra l'altro una CGI bellissima che veramente funziona alla fine di First Class Magneto aveva un costume orribile a Fassbender gli avevano messo un pijama veramente era meglio il costume aveva nel primo X-Men ragazzi era tremendo qui invece è perfetto il suo costume i costumi sono giusti bestia anche il make up di Nicolas Halt migliora come bestia è molto meglio secondo me i personaggi sono interessantissimi continua il dibattito ideologico fra Charles e Eric ci sono dei dialoghi interessantissimi con Wolverine che cerca di riunirli dopo la loro separazione e quindi è un film secondo me fenomenale bellissimo poi Magneto cercherà nel finale di buttarla al culo anche a Wolverine e in co e poi allo stesso tempo vediamo anche cosa succede invece nel frattempo nel futuro e anche che le scene sono mastodontiche per me è uno dei film migliori degli X-Men a questa parte anche qui in Forza è una delle scene che rimangano più espresse oltre a Magneto con lo stadio la scena di Quicksilver vero che salva Magneto dal pentagono oppure all'interno della cucina lì che va tutta a rallentatore molto fino con la musica di sottofondo davvero una bella idea esatto e qui questo film poi no che resetta però cambia è la prima tirologia degli X-Men è vero perché poi si crea un futuro alternativo dove infatti anche qui Logan rivede i personaggi che aveva perso in X-Men 3 si rivede Jean ciclope il professor X sulla sedia lì e anche qui dall'altra parte invece si vede cambiano le origini di Wolverine perché non incontra non avrei in contatto con Stryker ma Stryker che è in realtà mistica perché si vede già gli occhietti gialli e quindi è interessante io sto film mi garba veramente un botto manca a me garbaco molto mettiamo questo in God di bravo bravo secondo me questo doveva essere l'ultimo film degli X-Men cavolo si doveva essere questo poi loro hanno voluto continuare con i giovini però vabbè vabbè dai andiamo avanti con Deadpool il primo Deadpool il primo Deadpool si Deadpool del 2016 la storia segue le vicende di Wade Wilson un ex agente delle forze speciali che diventa poi un mercenario dopo aver scoperto di avere un cancro terminale Wade accetta di sottoporsi a un trattamento speciale che promette di curarlo e di conferirgli anche poteri straordinari tuttavia però questo esperimento lo lascia sfigurato però gli dona anche incredibili abilità di guarigione assomigliando un po' quelle di Wolverine dopodiché Wade decide di prendere il nome di Deadpool e intraprendere poi questa missione di vendetta perché si vuole vendicare contro questo Francis che gli ha distrutto praticamente la vita per cercare di rimettergli a posto la faccia e qui infatti ragazzi Ryan Reynolds ci rimase molto male quando in X-Men le origini gli fecero fare quel Deadpool che non era Deadpool perché è mega fan spiegatato infatti per fare questo film non so ci mise anche parecchi anni per dire facciamolo bene dai su infatti io devo dire che questo film riguardandolo mi continua ancora a piacere anche perché anche se la storia è molto semplice però parla di tematica di lui che poi scopre di avere un tumore ha un cancro il film racconta anche dell'amore che trova questo personaggio un amore che diventa più forte anche dopo la scoperta della sua malattia appunto il tumore e che poi vedremo andrà al di là anche dell'aspetto fisico che ha Wade che a causa di questo esperimento gli ha deturpato il viso ha paura di rincontrarla perché dice ma insomma ora faccio schifo non mi vorrà poi vedremo andando più avanti dall'inizio che pensa di voler fare tutto da solo un personaggio solitario cerca di invece entrare a far parte di una famiglia e qui infatti facciamo la conoscenza di altri personaggi all'interno del film degli X-Men come per esempio Colosso e testata mutante negasonica il primo poi ora poi parlando anche del seguito aveva delle battute perché lui è un personaggio che sfonda la quarta parete ovvero quando Deadpool spesso si rivolge direttamente al pubblico che guarda alcune battute ci sta il film comunque è noto per il suo umorismo nero pieno di parolacce anche non mi ricordavo è uno dei primi film all'epoca che comunque era Ratedard di supereroi supereroi Ratedard era una cosa abbastanza strana le battute che faceva erano anche molto diciamo comprensibili dal grande pubblico perché poi parlando anche del sequel fa battute più per i fan infatti cavalcava anche molto l'onda dei film che giravano in quel momento io ho un film che dico ok ci sta è un buon film di Deadpool è finalmente la rivincita su quel personaggio di merda di X-Men le origini però allo stesso tempo mi stucca un po' col tempo mi è piaciuto la prima volta però non è un film di cui vado pazzo diciamo ho preferito il secondo film proprio perché la butta talmente tanto di fuori che dico ma si dai qui anche ha un cattivo che secondo me è vuoto il cattivo è abbastanza vuoto è veramente vuoto è veramente vuoto campa di gag molto divertenti anche già dal primo film comunque si vedeva che lui era molto legato non a Logan ma proprio lo diceva Hugh Jackman c'ha la rivista Playboy con Hugh Jackman la faccia di Hugh Jackman si sono carini anche i titoli di testa con tutti i nomi tutti fottuti si fottuti infatti io dico il primo Deadpool è un film carino infatti secondo me è un film buono è buono sta lì si è un film buono funziona fai suo passiamo poi a un film che è stato abbastanza criticato abbastanza discusso X-Men Apocalisse in giorni di futuro passato c'era una scena post credit nel deserto che faceva presagire l'arrivo di Apocalisse un altro dei cattivi iconici del gruppo degli X-Men la cosa più figa qual'era? che sto film è diretto di nuovo da Bryan Singer cazzo dopo giorni di un futuro passato porterà finalmente a livelli altissimi ancora questa saga vero? insomma diciamo che questo film ha dei problemi però anche qualche piccolo pregio arriva Apocalisse è il primo mutante della storia che veniva venerato e trasferiva la sua coscienza di corpo in corpo per rimanere immortale è interpretato da Oscar Isaac viene risvegliato per delle vicissitudini ai giorni nostri gli X-Men quelli giovani deve combatterlo lui e i suoi quattro cavalieri dell'Apocalisse e cercare di sconfiggerlo tra questi cavalieri dell'Apocalisse ci sarà una giovane tempesta di cui le origini sono buttate veramente a caso Michael Fassbender che è veramente strano che si unisca a lui e altri allora la trama è questa tutti contro Apocalisse Apocalisse diciamo un villain più di presenza il cui make up è convincente quando ha gli occhi bianchi fa paura anche un pochino in punto un certo timore però più della sua presenza qualche frase rubata da qualche passaggio della Bibbia interessante per far vedere che lui porta Armageddon non c'è o altro è un villain che si basa solo sulla presenza scenica poi se andiamo a vedere i collegamenti con tutti gli altri film non torna niente ritorna Wolverine che fugge dal progetto Arma X nel frattempo c'erano gli X-Men lì a giro c'era Jean Grey c'era Ciclope Ciclope Nightcrawler una versione nuova per il resto le scene d'azione però secondo me si vede che sono dirette da Bryan Singer perché sono molto belle da vedere c'è un bello spettacolo dei belli effetti visivi però anche lì fa sbendere un po' sminchiato in questo film da che se ne va dopo giorni di un futuro passato decide di mi sono fatto una famiglia con una tra l'altro una moglie doppiata in maniera criminale anche la sua figlia lascià dei poteri infatti poi quando lui viene sgamato perché lavora in un'acciaieria e salva un tizio o non l'avesse mai fatto utilizzando i suoi poteri gli arrivano a casa e alla fine more sia la sua figliola che la sua moglie si incazza come una viscia e poi alla fine incontra qua Alice io posso potenziare i tuoi poteri e io sono potentissimo e potenzio i poteri di tutti divento Dio eccetera va bene mi unisco a te si lo riporta ad Auschwitz di Ducate il motivo poi perché rimane con lui è un po' tirato è un po' tirato tra l'altro non capisco perché in questo film Apocalisse sia praticamente un parrucchiere perché dai poteri a tempesta gli fa diventare capelli bianchi cerca di entrare nel corpo di Shark Savior gli cadono tutti i capelli a ciocche gli fa proprio anche i vestiti si li mette tutti per benina niente alla fine questo è Apocalisse questo è Apocalisse a me la cosa più mi ha dato fastidio magari uno dice vabbè non lo sai ancora non devi vedere film dopo però ora sapendolo qui si dice che Quicksilver dice Magneto è mio padre in giorni un futuro passato se non sbaglio si vede che è anche una piccola sorella quindi penso sia Wanda si è Wanda Maximo qui infatti non glielo dice sono lì che devono cercare di riportare Magneto nel bene Mistica gli dice dai dobbiamo aiutare Charles e tutti gli altri dobbiamo salvare gli altri mutanti la nostra famiglia poi gli dice a Quicksilver te chi hai? anche io una famiglia ma dillo tu sei me pa infatti la giusta risposta di Magneto sarebbe a me che cazzo me ne frega giustamente infatti dopo Quicksilver viene ferito gli viene rotta la gamba da Apocalisse Magneto lo vede se sapeva che era suo figlio interveniva invece interviene così perché gli scendono un po' di lacrime sarebbe stato un motivo un motivo convincente proprio di trama per cui poi Magneto si sarebbe staccato da Apocalisse comunque Bryan Singer ce l'ha mostrato lui ci ha rifatto una famiglia una figlia fai vedere che in realtà c'è ancora un figlio in realtà anche una sorella però no non glielo dico qui Silvia nel film glielo dirò non è vero che poi nel finale quando devono sconfiggere il bello Magneto gli tira due travi e forma la X degli X-Men vabbè lì effettivamente anche meno infatti non lo so Bryan Singer qui mostra il fianco purtroppo ed è un peccato perché non l'aveva mai fatto finora tutti i suoi film erano un peccato infatti nonostante ciò secondo me ha delle scene che lo salvicchiano per l'intrattenimento diciamo anche qui la cena si ricorda è quando Silver salva i ragazzi è una ripetizione è una ripetizione cioè uguale a quell'altra con la musica diversa con la musica diversa però te lo ricordi va bene sì va bene però alla fine è mediocre non è me secondo me un pochino me cioè non è noioso cioè non è dupalle come Wolverine un pochino meglio è dai c'è capito problemi di trama come X-Men in conflitto finale ma comunque un pochino ti diverti e secondo me siamo lì va bene sì sì e adesso ragazzi si parla di un film tanta roba tanta roba ovvero Logan del 2017 diretto da James Mangold Logan è ambientato in un futuro distopico in cui la maggior parte dei mutanti è scomparsa Wolverine è un uomo invecchiato malato che vive isolato e si prende cura di un professor X che è affetto da una malattia neurodegenerativa che rende i suoi poteri pericolosamente instabili Logan lavora come un autista di limousine per raccimolare la giusta somma per poter scappare via con il professore in un posto più sicuro e tranquillo tuttavia però la sua vita cambia quando un giorno incontra una mutante di nome Laura che possiede delle abilità molto simili a quelle di Logan l'arrivo di Laura nelle vite di Logan e del professore li porterà in un viaggio per raggiungere un luogo sicuro che viene chiamato Eden un luogo dove sperano di trovare rifugio dai nemici che stanno cercando Laura però le cose non andranno come loro pensano Logan è quel film che quando lo vidi al cinema quando finì e tornai a casa io mi sembra ricreare un po' il meme di Stewie I should get some sleep perché comunque Wolver interpretato da Jackman è un personaggio che noi abbiamo conosciuto da lontano 2000 e per 17 anni è sempre stato lui e quindi la gente si è anche affezionata merita anche comunque dei film nonostante abbia avuto dei film solisti orribili da solista orribili infatti ci sono state dei film che soprattutto gli X-Men hanno fatto sì che crescesse l'ammirazione verso sto personaggio ma lui infatti funzionava da Dio film dove non era il protagonista perché era quello più interessante nonostante gli altri avessero poteri incredibili comunque lui con gli artigli e si rigenera aveva talmente tanto carisma anche il suo passato che non si sa bene poi si hanno fatto come le origini di Wolverine però il suo passato che rimane oscuro molto interessante aveva un grande fascino e qui ti mostrano Wolverine ormai vecchio è un road movie disilluso da morire una violenza inaudita è il primo film di Wolverine in Rated R perché i primi non lo erano questo invece infatti già nella prima scena con questi tizi che gli stanno fregando la ruota gli taglia le braccia gli inficca gli artigli nella testa insomma tanto violento e qui è un Logan ormai vecchio perché è un tossico perché beve dalla mattina alla sera il film te lo costruisce anche il motivo per cui lui è così e anche il fatto perché i mutanti non ci sono più non è che il film comunque ti fa vedere dei flashback oddio cosa è successo no piccoli discorsi durante il film che quindi ti fanno riflettere e infatti anche il professor X ti fa capire come mai non ci sono più chi è stato a uccidere tutti questi mutanti lo vediamo in scene molto più intime finalmente si guarda allo specchio anche con disprezzo si tocca gli artigli se li stringe si va anche a quella scena dove ormai per quanto lui è vecchio gli artigli non gli escono del tutto e se lui se li deve tirare per farli uscire oppure il suo fattore di guarigione non funziona infatti si deve sforzare per tirare fuori i proiettili però rimane comunque tutte le cicatrici perde il sangue da tutte le parti anche il suo look è molto di impatto col barbone le musiche tra l'altro zitte zitte a me mi sono rimaste in testa ancora oggi la scena comunque bella anche vanno a cena da questa famiglia di contadini dove anche lì il professore lo dice anche è stata la miglior serata della mia vita cioè lì poverino tutti insieme anche i dialoghi infatti vengono utilizzati in questo film sono molto veri si sono bellissimi anche il professor Xavier in questo stilos cioè molto veri pian ucola anche mentre lo dice è molto realistico anche l'interpretazione di Patrick Stewart comunque Logan è un film con tante scene molti momenti da lacrime virili che comprendono anche il personaggio del professor X e che trovano il suo apice nel finale dove chiudono questo arco narrativo del personaggio che abbiamo conosciuto nel lontano 2000 un personaggio che ha vissuto una vita di sofferenze molte guerre e che trova la sua redenzione in questo suo ultimo sacrificio per salvare sia Laura ma anche gli altri mutanti mentre tiene stringe la mano di Laura finalmente anche nelle sue ultime parole sa cosa si prova nel morire dato che lui era il mutante immortale nel finale poi in seguito vicino alla tomba di Logan rappresenta un po' anche l'eredità ovvero adesso l'eredità di Logan vive in Laura e anche negli altri bambini mutanti quindi Laura dentro di sé ha lo spirito di Logan ma con la speranza di un futuro migliore infatti vediamo i bambini che si allontanano andando in cerca di un posto sicuro dove poter avere una vita migliore un futuro migliore e la telecamera ci saluta con la tomba di Logan che ha come lapide questa X per ricordare non solo lui che è un X-Man ma tutti gli X-Men in generale con una citazione che nessuno ha notato nel finale all'inizio del texano dagli occhi di ghiaccio infatti in questo film ci sono più strizzate d'occhio a un certo tipo di cinema western il film che guardano il film che guardano alla televisione che è il Cavaliere della Valle Solitaria quando fa la X diventa sì una X ma era anche secondo me una citazione al texano dagli occhi di ghiaccio quando Clint Eastwood seppellisce suo figlio comunque questo film è veramente bellissimo mettiamolo tra i migliori senza tanto indugiare troppo va in God Tear è veramente fenomenale bellissimo adesso parliamo di Deadpool 2 stavolta è diretto niente poco di meno che David Leitch che tra l'altro è davvero un regista d'azione con i controcoglioni e infatti qui lo dimostra personalmente lo preferisco al primo nonostante sia un film forse anche meno quadrato rispetto al primo ma il divertimento secondo me è maggiore la butta talmente tanto di fuori da essere veramente una mega cazzatona la storia alla fine si ve la posso dire ma è veramente un pretesto del film per raccontare gag e cazzatone varie arriva Cable interpretato da Josh Brolin che viaggia nel tempo e deve far fuori un ragazzino mutante che causerà molti problemi in futuro però Deadpool lo proteggerà perché sta cominciando ad avere un contatto più ravvicinato con gli X-Men e vuole provare a essere migliore anche perché all'inizio del film gli fanno fuori la fia e quindi niente questo è tutto un pretesto poi per scene d'azione realizzate davvero bene violenza realizzata molto bene e un sacco di gag cretine però che funzionano anche esse ci sono battute su Josh Brolin perché interpretava Thanos all'epoca in Infinity War ci sono battute rivolte anche alla seriosità dell'universo di sì di merda di quell'epoca il film si regge ancora una volta sullo sfondamento della quarta parete le cazzatone e il divertimento più totale e su questo campa e questo funziona bene secondo me è poco da dire di Deadpool 2 perché guardatelo vi divertite ed è quello l'unica cosa qui mi stavo un po' annoiando nel finale lui si vuole sacrificare per salvare il ragazzo mutante infatti lui vedendo che uno ha cercato di salvarlo l'ha protetto infatti cambia il futuro di Cable infatti si vede dall'ursacchiotto è vero però mentre Deadpool sta per morire e deve dire le ultime parole prima di crepare non lo so io ero a dire sì ma dopo un po' basta chiude gli occhi fa un errore perché lì fa un errore vuole sì rendere simpatica con le gag una scena drammatica in cui però allo stesso tempo ci credono un po' troppo ci credono un po' troppo nella drammaticità di questa scena per poi appunto comunque filarcela comunque riempirla di gag dopo e quindi risulta un po' fallimentare è vero un po' pallosa tirata troppo per le lunghe quello è vero Cable che fa si non ne vuole più nemmeno ma infatti io ripeto a me non mi fanno impazzire i film di Deadpool sono carini però se devo dire quale riguarderei con forse più piacevolezza effettivamente è il secondo perché la butta ancora più di fuori nonostante ciò c'è anche un cameo del fenomeno realizzato un pochino meglio un pochino meglio di com'era in conflitto finale I'm the jug note bitch e lì infatti tra l'altro ha delle battute grevissime io guarda lo metterei in buono però anche la fin dei conti per com'è diretto e tutto è meglio comunque del primo delle scene d'azione secondo me sono tanta roba funziona e adesso ci troviamo di fronte finalmente all'ultimo film perché Dio Bono tra l'altro si finisce veramente in merda Alessio ragazzi hanno voluto concludere la saga degli X-Men quelli giovani con questo film Dark Phoenix X-Men Dark Phoenix segue la storia dei mutanti focalizzandosi particolarmente sul personaggio di Jean Grey quando Jean viene colpita da una misteriosa forza cosmica durante una missione nello spazio il suo potere aumenta a livelli incredibili trasformandola nella potente entità nota come la Fenice Nera mentre Jean lotta con il suo scuro alter ego gli X-Men si trovano di fronte alla decisione di salvare il loro amico o fermare la minacchia che rappresenta per il mondo non ritorna Bryan Singer per questo film è un altro regista tutte le volte che c'è da trattare la Fenice Nera come saga Bryan Singer per il terzo film allora prima di tutto per me gli attori tra tutti non avevano voglia di recitare o di stare sul set per esempio Jennifer Lawrence è la nostra mistica nei primi film aveva un trucco qui gli hanno pitturato solo la faccia di blu quindi è lei però è solo blu ma poi anche il finale di X-Men Apocalisse finiva con lei che diventava la nuova guida infatti faceva vedere tutti con i propri costumi e qui ragazzi pochi minuti mandano tutto nel cesso perché mistica muore viene uccisa da Jean Grey Quicksilver che aveva delle scene abbastanza iconiche quei momenti dove rallentava tutto con una canzone di mezzo qui neanche quello qui inciampa perché Jean Grey gli sposta una tegola e quindi si rompe tutto e quindi per tutti i film lui non c'è sta così nel letto tutto rotto il professor X questa fine del 2019 nel 2018 l'attore aveva fatto il film Glass e comunque si era dovuto un po' pompare ti vedi sto professor X su questa sede ha delle braccia che esplodono che poi neanche dice vabbè gli mettono la giacca addosso quindi un po' da mascherare con mezze maniche si fa vedere i muscoli alle braccia anche il rapporto tra Magneto e professor X molto blando qui Magneto quasi una macchietta ce l'hanno scritto male perché Jean Grey va da lui a chiedere gli aiuto e gli X-Men mi vogliono far fuori perché so cattiva non gli dice a Magneto che ha ucciso Mistica perché se no Magneto è io sennò ti fa fuori hai ucciso Mistica e comunque lui ci teneva e c'è quella scena di arriva questo esercito perché vuole fermare Jean Grey va da Magneto per salvarli vuole mandare via però c'è Jean Grey che intanto cerca invece di tirarli a sé e quindi c'è questo momento di Magneto che sembra si stia canna addosso c'è il modo in cui lui recita per spostare cioè lui ci mette tutta la forza possibile però se me la stia canando cioè ci sono solo questi primi piani del volto e fa ridere poi lui scoprirà che Jean ha ucciso Mistica quindi diventa cattivo vuole ucciderla c'è di nuovo Xavier che dice no Magneto non si fa non fare queste cate e Magneto risponde sì me l'ha detto tante volte stavolta non funziona c'è anche la cattivante qui ci sono qui buttano tante cose ci sono questi alieni sì perché come vi ho detto all'inizio c'è questa missione nello spazio dove Jean viene colpita da questa nube cosmica che viene assorbita infatti diventa cattiva perché gli entra la staccata dentro di lei è diventata una Fantastic Four è vero e lì Magneto infatti capisce no forse c'è ancora speranza perché forse non è veramente lei infatti chi ha la cattiva che vuole il potere di Jean e gli dice ma te prima non volevi ucciderla e Magneto ho cambiato idea così anche il tuo film sminchiala continuity fatto per cambiare non è una tradizione questo film non doveva collegarsi alla fine al finale di Giorno di un futuro passato di Logan che torna e sono tutti vivi in realtà si doveva arrivare lì perché alla fine Jean dice no questi sono la mia famiglia gli voglio bene usa il suo potere si fa saltare in aria nello spazio quindi muore il professore però anche nei film precedenti lui diceva io gli avevo nascosto i suoi vecchi ricordi per tenerli al sicuro ho sbagliato ho fatto la merda alla cata non si sente più di fare il professore infatti abbandona la scuola va in Francia il preside diventa bestia e la scuola non si chiamerà più Xavier School ma Jean Grey se non sbaglio Xavier va in Francia su questo tavolino a bere un tè e davanti a lui si siede Magneto e gli dice facciamo una partitina si porta dietro la valigetta app già rascacchi e finisce con la telecamera che si alza verso il cielo e si vede una sorta di fenice che vola evviva un modo peggiore per chiudere questi film non potevano trovarlo si anche per cercare di uno dice vabbè X-Men 3 è andato un po' nel cesso cerchiamo di farlo meglio sa che l'hanno fatto peggio cavolo ma beh per certo che ogni volta che si prova a trasporre questa storia viene veramente fatta in maniera stramega del niente è veramente un peccato perché è una delle più famose è una delle più riuscite però è ovvio che questo film va in brutto va in brutto cioè non è dice non è che è proprio una merda 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 però dici sì è brutto è uno di quei film che ragazzi se volete guardare un'occhiata la puoi dare però poi dici basta ma solo una volta solo un'occhia l'hai visto una volta e basta ci sarebbe anche New Mutants ragazzi però è un po' buttato lì cioè non si collega a un cazzo non torna nulla e in ogni caso è un film di merda ragazzi quindi è inutile parlarne i film della saga degli X-Men sono questi con diverse catatelle ma veramente comunque tante robe interessanti abbiamo detto abbiamo detto tutto ragazzi e quindi che dire seguiteci sul letterbox iscrivetevi al canale mettete mi piace condividetelo con i vostri amici detto questo vi salutiamo e vi rimandiamo a un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti